Tutti coloro che l'hanno visto, devono essere eliminati da questo mondo! Bastardo! Ehi, anche tu, hai sentito un telefono squillare? Dov'è? Ehi, ti ho fatto una domanda! Il mio è rotto, quindi non è possibile che abbia squillato! Di che parli? Non ho sentito nessun... L'ho sentito ancora! Dov'è? Ma dov'è? Ma che diavolo? Allora ce l'avevi un telefono, perché non me l'hai detto, eh? Pronto? Sì, sono doppio. Boss! Sì, ci sono. Stesso punto della foto. Quindi ora devo solo stare in allerta. Quindi, dato che non ha visto bene la fotografia, può vivere. Non per essere scortese, boss, ma penso che il tassista abbia visto qualcosa che non doveva. Sì, le mie scuse, boss. Ho già cominciato a controllare l'edificio. I mi last relations a tutti. Allora... Ciao !